La spartita di Mazzara, oratorio San Ciro e Giorgio Marineo, terminata pochi minuti fa, 0-0. Siamo con Angelo Mazzara, attaccante del Marineo. Angelo, innanzitutto un pareggio che vi avvicina sempre di più alla salvezza e che comunque vi tiene lì tra le squadre che possono ancora inseguire i play-off. Sì, oggi siamo venuti a Mazzara a giocarci la partita a vista aperto. È stata una bella partita, giocata da entrambi le squadre a vista aperto, ripeto. Sì, sì, è un punto fondamentale per il nostro commino. Ecco, il tuo giudizio sulla partita? Nel primo tempo probabilmente il Mazzara ai punti avrebbe meritato qualcosa di più. Poi nella ripresa, soprattutto nei minuti finali, quando i giallo-blu hanno provato magari il forcing per portare a casa il bottino pieno, voi siete andati più volte vicini al goal? Sì, sì, è stata una partita equilibrata. Primo tempo loro, nel secondo tempo siamo usciti un po' noi. Potremmo vincerla, però abbiamo fatto questo pareggio che per la nostra salvezza è fondamentale. È stata una bella partita. Da parte vostra c'era anche voglia di rivalsa dopo la semifinale di Coppa Italia. Mi ricordo che comunque l'ambiente dopo la semifinale era abbastanza teso. Siete venuti qui anche per vendicarvi, tra virgolette sportivamente. E' stata quella partita? Sì, è stata una brucia ancora, però è stata una partita molto dura. Siamo usciti pur non essere sconfitti. Quindi siamo di qua oggi a giocarci, ripeto, la partita vista aperta contro un Mazzara che devo fare i miei complimenti perché gioca anche un bel calcio. Que يwisci per la sua... Thecu�도 Il tuo